Martedì 7 settembre alle 20.30 in Piazza Moretti la compagnia sassarese La Corte dei Miracoli si esibisce in uno degli eventi più irriverenti di Sassare Estate 2021, Pascoli a luci rosse. Non più dunque il poeta che conosciamo, quello insegnato a scuola, piccolo borghese, era assegnato alle sofferenze della vita, ma una figura perversa e decadente, lontana dal sesso e dai legami amorosi, interpretata con l'ironia e l'erotismo del cabaret. L'eros di Pascoli, spiega la regista Donatella Secchi, non che attrice, era bloccato e sublimato dalla produzione poetica, per cui l'unico amore che ha vissuto è quello degli altri, come si vedrà rappresentato nello spettacolo, in modo giocoso e dissacrante. La poesia, conclude la regista, può intrattenere e divertire. In scena, anche il musicista Stefano Galeano, insieme a Valentina Ruzzo e Roberto Battaglia, interpreti di alcuni tra i più grandi capolavori pascoliani, dalla Cavallina Storna a Gelsomino Notturno alla Suolo. Per info e prenotazioni, chiamare il 368 75 12 173.